E' stata una bella emozione, poi contro il Perugia ancora di più perché è una partita tesa, dovevamo dimostrare comunque di essere all'altezza e di portare a casa punti, quindi è stata una bella emozione. Sì, ho iniziato terzo, poi il mister ha fatto una scelta di mettermi quinto, io ho cercato di fare il massimo in quel ruolo e fortunatamente è arrivato l'assist e sono stato molto contento. Sì, dopo il gol è come se volevamo mantenere quell'1-0 ed era troppo presto, quindi poi siamo schiacciati un po' e abbiamo subito il 2-1 purtroppo, solo che dopo il 2-1 abbiamo ricominciato a giocare e fortunatamente dopo tre minuti siamo riusciti a rimettere la partita a posto. Diciamo che siamo un po' batti e beccati per lui, però è finita la partita del 5 è tutto a posto. Vabbè, ho molti ricordi con la Regna Natese ed è bella emozione. Noi faremo la nostra partita, sicuramente loro sono una squadra ostica, però noi dobbiamo portare a casa la prima possibile la salvezza e poi per pensare altro dopo. Sicuramente l'attacco è il loro punto più forte, sì, Ale lo conosco, Melchiorri un po' meno, sono giocatori di movimento di categoria e noi comunque siamo sicuri che fanno una bella partita, soprattutto anche dietro, quindi va bene così. Grazie.